Salve a tutti ragazzi, sono Beat64 e oggi siamo su Trov e oggi siamo in questo nuovo video ma non siamo soli perché questo video non è proprio un video così moscio moscio che pensate, perché mi servirebbe un compagno di avventura per motivare questa serie. Questo che cazzo è? E questo che cazzo è? Chi sei? Non ti ricordi di me. Presentiti, dimostrati, certificato di nascita eccetera. Ma comunque non ti ricordi di me? Cipiri! Cipirotto! Ah, mo mi ricordo! Ciao! Ti ricordi quando ci sono tutti attenzione dal monte? Ci ho più visti dall'ospedale. Raga, questo non lo conosco, sei un tizio straniero. Ma va bene, prendiamolo come tipo un amico che lo conosciamo. Va bene, andiamo. Vabbè sì, ci siamo in questo mondo. Sì, sto facendo un video. Sì, sto facendo un video. Saluta YouTube. Ciao! E vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale. Si chiama Game Console Italy. Game Console Italy. Game Console Italy. Ange, fai così, scrivi nei commenti, io è così facile. Sono quelli di non capire, però. Ok. Vabbiamo? Facciamo le mani. Vabbè, vediamo? Vabbè, vediamo. Vabbè, vediamo. Vediamo io, mi posso migliore dove è. Poi casa tua? Chi era il tempo che faceva vedere dove è il posto migliore. È un pochino rotta, è giusto un pochino. No, l'ho messa io così. Un po' di finestra. E io, perdone. Io vado così, io vado a posizionare il posto dove allenarsi. Per pararsi, scusa. Va bene? Sì. Quindi tu aspettami ora qua. Dove cavolo andare? Dove cavolo andare? Dove cavolo andare? Vabbè, sto un po' da solo. Posso un metodo per cui scappare da lui. Perdone. Dove sta? Sta arrivando. Perdone. Salve. Vieni. Ok. Dove sta? Vi c'ho detto, sono perfetto. Casa mia. Che è sta cosa? No. No. Mi è crashato. Mi ricordo di questa casa. No, non me la ricordo proprio. Ho un botto di memoria. Ho un botto di memoria, non mi ricordo di questa casa. Guarda qui. Provoso a dire. Posso dire una cosa? È un casino. Si capisce? È proprio così la casa di un cacciatore. Ascusa, come fai a mettere sti portali? Eh, devo preoccuparli. Io vado a mettere un terreno, quello che è. Guarda. Non vedo. Come sei sceso? Voglio sapere. Oh, ora ci scommetto, c'è un passaggio segreto. È certo che c'è un passaggio segreto. Ah, lo so dov'è, mo. Quanta mozza. Quanta mozza. Sassumare. Lo so. L'indizio. Sì. È lì dentro. Cucù. Lo sapevo. Io lo sapevo. Guarda quanto testo ho. Oh, mamma mia. Quante testo è di... Cazzo. Vabbè. Potremmo andare a fare avventure? No. Sì, un attimo mi dormire come dormire. A dormire? Io fatico mentre tu dormi. Ma vai, ma io Maria. No, Maria, io esco. Guarda qui. La gestione personale c'è anche. Mi dispiace, sono riuscito. Appena, ragazzi, cosa ne pensate se facciamo un video senza di lui? Anzi, ho ben altri motivi a cui pensare. Facciamo tipo dei dungeon, però mi servirebbe il suo aiuto. Cioè, lui ha tanto power rank, ha tanto la potenza. Cos'è detto? Cos'è detto? Ti ho sentito? Guarda che ti ho sentito. Ok. Guarda che ti ho sentito. Cosa? No, non ho detto niente. Vabbè, lo ammetto, sei forte. Mi servirebbe il tuo aiuto, ok? Quindi, mi servirebbe che mi potenzi sia io che io sia forte. E come tipo, tipo questo qua che è tipo un saggio per me, tipo un maestro. Allora. Infatti, trovo che è un casino. Allora, mi seguo. Qui sotto c'è la pergamena. Sì, signore. Sotto. Io faccio così. Praticamente, il suo video lo vorrei far durare più di 18 minuti. Non mi è dato nemmeno tempo. Non mi sono nemmeno ribellato. No. E cioè, tu mi rubi i posti. Ti rubi le cose. Io dirò a te ciao ciao. No. Io dirò a te. Vieni qua. No. Io dirò a te mi sto facendo il danno. Era già dentro, no? Era già dentro la cattedrale. Porco due. No. È già sconfitto il boss. Sì. Vabbè, tu avrei un livello maggiore. Nemmeno Goku. Come? Bum, 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 bum. E si vede, sei certo. Ba, 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 ba. Inchifote, inchifote. Inchifote, inchifote. Inchifote. Tutto quanto al mese di giugno. Già completato, la cattedrale. Guarda, ragazzo, l'ha giù. Da, da, da. Girborough. Forza. Un po' cattillale. Trasformazione gigobot d'acciaio Mi scappo Scappo, scappo Allora raga Hashtag scappo Io scappo E' la parola nuova Andate nel suo canale perchè lui crea le parole E' tipo un vocabolario per me E vuoi seguire a me Tu devi fare questa cosa Cosa Questo Chi? Tra lunga Trolling Saruman Che si butta da un balcone E falla E falla Che son rumore Mi sento la guerra Fuori Sento delle botte La seconda guerra mondiale Andiamo a cercare un altro castello Forse non so dove sono O forse si potrebbe triccare da me Ciao spigors Golo mi hai tradito Io so sempre Dove tu sei Sei pure quando io vado a cagare Sei pure quando mi sfido Quecce c'è ma Che c'è ma No aspetta guarda che ho visto No cose preziose E me le fotto No troppo bello Si prendono ste cose Non so Tadissi Che è sto coso Tadissi Cioè è tipo un coso Che è Cosa Non c'è niente io ci ho preso tutto Perché Perché troppa delle merda La vuoi vedere La vuoi vedere Muori Muori Adho distrutto tutto E so superato pure il livello Oh mamma mia Ci ripria la vita che sale Fizzo che ho un launcher Conti è arrivato sul livello di combattimento Ora si va Si vola Martingaric si vola Padre Non so Tu devi resistere alla lava infernale Alla lava infernale Sembrirebbe più miele Ci Ok Ti do confesso a una cosa Non sono Tu qua sono Sono Tu padre Nooo Nemmeno Sieni da me Skyhook Potere della forza Io resisto alla lava Sono forte Sono Sono Uomo Via Aiuto Nooo Ma tu quanta vita c'hai per sapere Io avere la vita di Dio Mai No Non mai possibile No Io mi butto Come l'ho detto Oh mamma mia Quanto scende la vita Entra qui dentro A parte La challenge Lava Via Che bello Vi sto facendo il bagno Nella lava Mi sto facendo il bagno Nella lava Aiuto A spiegare a fuoco Aiuto 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 No Markingan Ma da come lo sapevo che vero lo avevo trollato non lo sapeva lui non sa niente da basso passo con che ste caccate perché io voglio fare le missioni voglia io sono serio ma sono serio ma sono facili che vorresti che riguardi cosa ti ho detto prima che alcune volte devi dire quelle cose quelle cose quelle cose vabbè raga vabbè dai raga lo faccio solo per lui lui dice sempre che lo dice sempre che lui è forte ma invece non è vero quindi dito un po di supporto l'aiuto eccetera eccetera io scappo a chi è questo mi sembra questo tizio per me è pedo bear questo mi sembra ci sta sempre in culo io mi vado a fare i soldi ciao con i soldi si può fare questo è santo si cosa ma che è gesù andiamo ci riprendiamo andiamo a fare una battaglia ti aspetto allora almeno tre entriamo e c'entra boh non ti capisco ti fa male la testa ma mancano cinque player ma ci sei 4 si ok inizio sono morto via via tu in che squadra sei squadra rossa ci sei allora ti parla il culo vabbè i i io qui quale blevco Oh no fark non ан out english questa cosa facciamo migliore sai è più bene fuck you bitch già dico io a te you mother jump jump boost run 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 e max run run porca puttana vabbè basta sei cretinata facciamo miseri sono morto basta dire perché quello è pure lui dove la devo mettere sta bandiera aiuto l'avevo messo nella base nemica non me ne ero accorto la stavo portando a voi che cavo mi confondo non so dove allora praticamente ecco dove spawnano le pedacce a bandiere mia ok raga ok raga allora mi devo arrabbiare corri non fatti prendere c'è il nemesis scappa ti vedo questa è la nostra basso non glielo vorrei dire me ne ero accorto merda ah ma se sono io che c'è io no però non lo sapevo no ma stiamo vincendo ma non è un vale per Roma non si posiziona la bandiera ma ho basso perché i blu devono vincere vieni qua che ti piglio in culo no no ma vero ma qualcuno interviene nessun interviene abbiamo per caso perdere semmai eh sì siete voi divertenti sicuro sicuro che siamo divertenti mi sembra che sto scopando l'acqua così mi sembra e quindi ragazzi se il video mi è piaciuto lasciato coperto mi piace mi piace le nostre nuove barche se vi è piaciuto lasciato il commento o vi piace iscrivete al canale le spiace enti ma devo uccidere cipili perché sta scappando quindi se vi è piaciuto lasciate commento mi piace iscrivete al canale io me ne vado nella mia barca prendiamolo via quindi ragazzi se vi è piaciuto lasciato commento mi piace iscrivete al canale questo video bella raga ciao hai finito dice ciao cipir ciao 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 inscrivete al mio canale sono